Si chiamava Sade Carlina Robinson, era una dolce e simpatica studentessa universitaria che pensava aveva solo 19 anni di età. Era scomparsa all'inizio di aprile del 2024 in un primo appuntamento. L'uomo con cui era uscita si chiama Maxwell Henderson e pensava che il costruito avrebbe fatto a pezzi usando una sega di colleghi della pizzeria. Ha andato allarme dopo che la ragazza non si vedeva più. E' stato trovato un busto, un braccio, da un cittadino di Milwaukee, in Wisconsin, in una spiaggia, chiamiamola berata, del lago Michigan. L'uomo in pratica l'ha fatta fuori, dopo averla ammassata, quindi ha deciso di farla a pezzi, andandola letteralmente a distruggere, dicendo il corpo in pezzi. Una vicenda questa che era dell'incredibile, una vita spezzata letteralmente parlando. La donna, ma non c'è più, posso soltanto dire Sade Carlina Robinson riposa in pace. Amen.